Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Roid e oggi vedremo la pistola leggendaria a transfer play. Se non sapete ritrovarlo, al momento viene droppata da Amy Vora l'invincibile, il nuovo raid boss del DLC6. E' un raid boss veramente difficile. Vi lascerò qua sotto in descrizione la mia guida su come trovarlo e sconfiggerlo, ma state attenti perché ci vuole una build assolutamente perfetta per il bossing, altrimenti non ve ne saltate fuori. Con la mia build Infinimos, che è una delle più forti contro i boss, mi ci ha voluto molto tempo, quasi 10 minuti di combattimento e comunque sono finito a terra molte volte. Detto ciò, vediamo quella che ho ottenuto dalla mia farm. Atlas replay, danno 33801, precisione alta, maneggevolezza media, tempo di ricarica velocissimo, lo vedremo a breve, cadenza di fuoco normale, capienza caricatore 14. Qualcun altro vuole negoziare? Livello caos 10, più 39% precisione arma, più 21% cadenza di fuoco arma, più 23% velocità di ricarica, raggio danno d'esplosione più 50%, la consacrazione non ci interessa. Allora, cosa ha di speciale quest'arma? Teoricamente niente, lo vedremo contro i nemici veri. Quello che posso mostrarvi è che i dardi traccianti vengono sparati in modo un pochino strano, che i colpi sono esplosivi e che la ricarica è veramente veloce. Vedete che è una delle armi più veloci da ricaricare se non la più veloce? Detto ciò, andiamo a provarlo su Atenas per vedere cosa fa. Lo sapevate che il 60% di voi che guarda i miei video non è iscritto al mio canale? Per voi l'iscrizione può sembrare un piccolo gesto, ma per me mi può aiutare a fare molti più video e a farne di molto più interessanti. Per cui iscrivetevi col bottoncino qui sotto, è un piccolo gesto, mi aiuta veramente molto. Ed eccoci arrivati. La mia build si basa sul rigenerare le munizioni e aggiungere un pochino di danno ad aria, quindi influenzerà un pelo quest'arma. Detto ciò, andiamo a passare i dardi traccianti, spariamo e iniziamo a sparare. Vedete che il tracciamento viene passato da un nemico all'altro. Molto interessante il fatto che possa ricaricare in un attimo, così ci permette di effettivamente sparare in modo estremamente rapido. E devo dire che mi sta piacendo. Proviamo a usarla un pochino senza le munizioni traccianti. Vedete che è estremamente precisa, devo dire. Riproviamo con le munizioni perché è la parte più bella. Oh! Quando i nemici sono tracciati spara veramente veloce rispetto a normale. Vedete che pareva una machine gun invece che un'arma normale. Non so bene perché. sembra una cosa casuale. Probabilmente succede una volta ogni tot. Vedete che ha sparato molto veloce per un attimo e poi è tornato a velocità normale. Sembra una cosa casuale oppure potrebbe basarsi sul numero di nemici presenti. Non lo so, è un'arma nuova bisogna ancora testarla. Quello che vi posso dire è che è sicuramente un'arma approvata. 100% usatela perché è veramente buona. Quindi per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto e vi sia interessato. In questo caso vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi nel caso non lo siete ancora per supportare questo canale e aiutarmi a fare tanti nuovi video. Detto ciò da Roide è tutto. Ciao a tutti! Grazie a tutti!